Tra poco, Ameria Radio in diretta 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 Ameria Radio in diretta Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri carissimi radioascoltatori Da Buongiorno Ameria Radio, da Compartigiana di Imprese Eterni Paolo Pellegrì e Valentina Campana Buon Dì! Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua Siamo qui pronti per, pimpantissimi per questa nuova puntata Di Buongiorno Ameria Radio Allora, oggi è martedì 21 giugno 2022 È il 172esimo giorno dell'anno 26esima settimana È la fine del 2022 Mancano? Esattamente 193 giorni Bellissimo Oggi è 193 giorni E quindi, insomma, ci siamo quasi a Natale Allora, vediamo chi si celebra oggi Si celebra San Luigi Gonzaga Che è il produttore di giovani scolari e studenti San Raimundo San José Isabel Flores Varvela Martire messicano Non poteva essere altrimenti San Leufredo San Mevenno Se me compro che succede? San Tursicino di Pavia Santa Demetria di Roma Santa Marzia Martire Bene, tecla Allora, José Isabel Flores Varvela E Leufredo E Mevenno E Usircino E Demetria Tutti da te Bene, oggi abbiamo riempito anche oggi il relais E oggi poi c'è E martedì pesce fanno, eh Ah Quindi è tutta una cosa importantissima Allora Paolo credo che ci abbiamo indovinato Anche sulla proposta per i nostri cari radioascoltatori Nella scelta di oggi da Zallo Zafferano Certo, certo, certo Però iniziamo con le citazioni Oh, è tornata la nostra ascoltatrice velata Bisogna essere un mare per ricevere una corrente inquinata senza diventare impuri Friedrich Nitsch Wow Wow, molto bello questo Invece Il nostro caro Rebige ci dice Buongiorno a chi ama Ti amo terribilmente Se sbocciassi un fiore Se sbocciassi un fiore ogni volta che ti penso Ogni deserto ne sarebbe pieno Potrei dimenticarti di respirare ma non di pensare a te Potrei dimenticarmi, scusate, di respirare ma non di pensare a te Il grande amore non si può vedere né toccare Si può sentire solo con il cuore L'amore non dà nulla se non se stesso Non coglie nulla se non da se stesso L'amore non possiede Ne è posseduto L'amore basta all'amore Karir Gibran, poeta, pittore libanese, naturalizzato, statunitense Bene Remig E qua deve partire un applauso Bene Remig Diciamo un applauso per Remig Attenzione, attenzione Applauso per Remig Eccolo L'applauso per Remig Evviva Ecco Eccoci ci siamo per Remig Sentite il pubblico in delirio In delirio, in delirio Bene, bene, bene Chiudiamo la finestra Perché è il caso Allora Dobbiamo dare una notizia però su Remig Vero? Sì Da ieri è Remig Cipa Oppure Oppure Paci Paci Esattamente Secondo me è meglio Paci Fa parte del gruppo Paci Sì, sì Secondo me sì Il gruppo Paci È una bella notizia per Remig Quindi anche ieri sera L'ho anche comunicato alla sua famiglia Questo nuovo nome Quindi penso che siano contentissimi Bene Adesso andiamo a vedere la nostra ricettina Eh? Che te ne pare? E facciamo la paella vegetariana Vi ricordate? Non so se voi vedete Crozza La sera del venerdì Dove lui fa l'imitazione di questo chef vegetariano Ayurvedico Che si chiama Germi di Germi di soia Quindi Germi di soia Insieme Ed è bravissimo Perché comincia a fare Allora Cominciamo con la nostra bellissima ricetta Vegetariana No? Con un po' di tofu Cosa così E intanto l'altro gli comincia a fare Sì, benissimo Possiamo fare una bella pasta al forno Con la besciamella Porca miseria Quanto è buona Allora E anche oggi Noi faremo una cosa del genere Difficoltà di questa famiglia vegetariana È facile Preparazione Ci vogliono 55 minuti E di cottura 30 minuti Le dosi che vi stiamo per dare È per 6 persone E il costo è basso Ed oggi devo dire che è meglio che il costo sia basso Allora Riso arborio 600 grammi Olio extravergine di oliva Quanto basta Passata di pomodoro 300 grammi Pisellini 200 grammi Aglio 1 spicchio Cavolfiore 200 grammi Carote 220 grammi Fagioli bianchi precotti di spagna 200 grammi Brodo vegetale 2 litri Paprica 30 grammi Zafferano 2 bustine Carciofi i cuori 300 grammi Prezzemolo da tritare Un ciuffo Cipollotto fresco ce ne vuole uno Peperoli rossi 250 grammi Fagiolini 230 grammi Sale fino quanto basta E funghi champignon 220 grammi Vi invitiamo a vedere la bellissima preparazione Che avviene con una serie di fotografie C'è anche un video che vi fa seguire tutta la preparazione E alla fine troverete la bontà che si trova A figura 18 Come un bellissimo piatto Molto colorato Il consiglio che se vi piacciono i sapori decisi Si può aggiungere al soffritto della vostra veglia Un peperoncino piccante Tritato E io ce lo metterei perché mi piace Piccante Bene Vale Adesso che dobbiamo dire Vediamo un po' I nostri cari proverbi di questa settimana Che cosa ci dici tu? Allora io vi dico Non piangere sul latte macchiato Mentre tu Paolo cosa ci dici? Tanto va la gatta al lardo Che le viene la cellulite E invece tu come la conoscevi? Perché tanto va la gatta al lardo Che ci lascia lo zampino Ma anche non piangere sul latte versato Quindi questi sono proverbi un po' modificati E noi li abbiamo beccati E ci diverte molto di più Perché la gatta con la cola cellulite E non piangere sul latte macchiato Direi che ci siamo Bene Adesso tentiamo un'impresa Veramente impossibile Quella di diventare seri E lanciamo la sigla della? Rassegna stampa Bene Bene questa mattina partiamo Dalla sezione regionale Del Corriere dell'Umbria Benzina Esposto Codacons Alle procure L'associazione consumatori Chiede di indagare Alla magistratura di Perugia e Terni Possibili speculazioni Per i rincari Abnormi Quindi anche in Umbria Come in tutte le altre procure d'Italia Il Codacons Ha depositato Due nuovi esposti Per chiedere All'autorità giudiziaria Di indagare Sul rincaro Dei prezzi di benzina e gasolio Perché anche Nella nostra piccola regione Dovrà intervenire Sull'escalation Senza sosta Dei listini Dei carburanti E noi siamo Tra Tra quelle persone Che veramente Chiedono Pietà Perché Sta diventando impossibile Venire al lavoro Sì Devo dire che comunque Tutti questi esposti Bisognerebbe vedere qualche risultato Perché Esatto Anche questo è vero Non è possibile Quando proprio gli articoli Sia del Come diceva Valentina Sul Corriere Ma anche nel messaggero regionale Viene riportato Si riporta un calo Del petrolio Di circa l'8% Mentre salgono I prezzi Sia la pompa Quindi qualcosa Non va Sì Quindi speriamo Che venga fatto qualcosa La burocrazia costa 200 milioni Ai comuni Umbri Incidenza È del 26,4% Sulla spesa totale Quindi in Umbria Si spendono Come abbiamo visto dal titolo 200 milioni Di costi Per la burocrazia E questo infatti Secondo proprio Uno studio Della CGA Di Mestre La spesa Che i 92 comuni Del cuore verde Affrontano annualmente Per far funzionare La macchina amministrativa Sarebbe negli anni Negli ultimi anni Spiega proprio lo studio L'incidenza delle spese Per i servizi generali Amministrativi E di gestione sulla spesa corrente Sia leggermente in calo Nel 2020 Si è attestato Al 27% Quindi Meno 1,1% Rispetto al 2016 Per i 7.900 comuni Presenti nel paese Questa indicazione Presenta un costo Anno In termini complessivi Pari a 14,5 milioni Di euro A fronte di una media generale Pari a 251 euro Pro capite Le amministrazioni comunali Più piccole Registrano il costo Più elevato Seguono i municipi Con oltre 60.000 abitanti E quelli con classi Demografiche Intermedie Quindi diciamo Che anche qua La situazione Mi sembra abbastanza seria Tutto aumenta E i soldi Però sono sempre gli stessi Sempre quelli Non bastano Le una tantum Forse arriveranno Esatto Dello stato Automotive Si torna a parlare Dello stesso argomento Che abbiamo trattato Anche ieri Imperativo Riconversione Quindi Secondo l'ingegner Cimino RC Consulting Le aziende Devono sviluppare Le abilità acquistate E proporsi Su nuovi mercati La trasformazione ampia Irreversibile E complessa Impatterà Sulle 145 imprese Del comparto Che occupano 6.600 addetti Quindi si tratta Di passare Da strategie Orientate al mercato A quelle che si basano Sulle risorse Quindi diciamo Che la soluzione A quello che dicevamo ieri Comunque la riconversione Da un motore A scoppio Si chiama così Da un motore a scoppio A un motore elettrico Diciamo Porterà delle serie Consequenze Nel nostro territorio Perché ci sono Delle aziende Che si occupano Diciamo Della costruzione Di questo E quindi La proposta Dell'ingegner Cimino È quella di reinventarsi Diciamo E provare a stare Insomma Al passo Con la tecnologia Estate nei borghi più belli Con un festival itinerante 8 le realtà coinvolte Domani Il via Da Panicale Gli appuntamenti Proseguiranno Fino a settembre Quindi la forza Di attrazione Dei borghi È in crescita I dati sul turismo Lo confermano Perciò Perché non creare Altre occasioni Per viverli E conoscerli È con questo spirito Che nasce La prima edizione Del festival Dei borghi più belli Dell'Umbria Primo appuntamento Domani 22 giugno A Panicale La rassegna Proseguirà Fino al 10 settembre E porterà In atto 8 Porterà Scusate In 8 comuni Della regione Show teatrali Incontri d'autore E tanta buona musica Dal vivo In nome di un rilancio Integrato dal Turismo locale E del settore Dello spettacolo Quindi tappa dopo tappa Nel cuore verde Parliamo degli 8 borghi Che sono Panicale All'Erona Corciano Arrone Lugnano in Teverina Torgiano Spello E acqua sparta Quindi questa è davvero Un'ottima iniziativa Per chi volesse approfondire Pagina 7 Del Corriere dell'Umbria E con questo io termino Le notizie regionali Per lasciare la parola a Paolo Per integrare con il messaggero Sì Integriamo il messaggero Covid Omicron 5 Spinge a rialzo la curva Prevalgono le sotto varianti In risalita Incidenza settimanale E tasso di positività Dei tamponi L'assessore coletto Progressione importante Ma non siamo preoccupati Vaccinazione e terapie Scongiunano casi gravi In area media 106 pazienti Con il virus E solamente uno In area clinica In questo articolo Viene un pochino Focalizzato Il punto Come dicevamo ieri Sulla percentuale Dei positivi Che sta rialzando La testa E questo Diciamo Infatti Siamo passati Dal 18,7% Al 23,2% Sui tamponi Effettuati Però Come dice L'assessore coletto Come parlano I dati Non ci sono casi gravi Quindi Ci sono 106 persone In area media Come abbiamo detto E solamente uno In area critica Che significa Che vaccini E cure Stanno facendo effetto Quindi probabilmente Sta andando verso La fase Endemica Sta diventando endemico Questo virus Speriamo che Le parole Dell'assessore coletto Siano Diciamo vere Siano Confermate Dai Fatti E speriamo A ottobre Devo tornare a parlare Di lockdown Mascherine In robe varie Perché Quando poi Si ritorna Verso il freddo Le cose Cominciano a cambiare Si ripete sempre Di non abbassare La guardia Dove ci sono Assembramenti Mascherine Cerchiamo di Continuare A usare Le precauzioni Che abbiamo usato Fino adesso Certo in maniera Molto meno Stringente Ma con un occhio Sempre alla salute Di tutti quanti Cambiamo argomento Scuola Estate risparmiosa Fondi per 23 istituti Su 110 Finanziati progetti Da 40 a 70 mila euro Il top A chi ha più di 600 studenti I primi posti Nella graduatoria Occupati dalle primarie E dalle professionali Data priorità A chi non ha preso Finanziamenti Nello scorso anno Scolastico Il punteggio più alto A comprensorio Perugia 6 E dove parte Subito L'attività Leggete questo articolo A pagina 33 Dove vengono Enunciate Le scuole Che hanno preso Diciamo I benefici Del piano estate 2022 Sono stati finanziati Veramente 23 Solo su 110 Scuole E Il totale Quindi sono stati Destinati all'Umbria 1 milione e 270 mila euro A fronte di una richiesta Di 5,8 milioni Insomma Ecco c'è qualcosa Che magari non ha funzionato Proprio alla perfezione Visto che non sono stati Dati I finanziamenti Che si aspettavano Comunque Intanto Per queste 23 scuole Si può cominciare A pensare A questa attività Estiva Bene Con questo termino La pagina regionale Andiamo Direttamente Dai nostri amici Di Terni Today Alla pagina TerniToday.it Le notizie Iniziano così Bus Ecco tutte le corse Che verranno tagliate A Terni E in provincia La segnalazione Tubatura rotta E perdita d'acqua Da 12 giorni Surreale In condizione Di siccità Ternana Il centro sportivo In realtà Via Libra Del Consiglio Comunale Era preferibile Un'interlocuzione Con i cittadini L'inferno in casa Botta insulti Alla compagna Davanti i figli Queste notizie Sono sempre molto Dure Semaforo di via Ardintilt Alle Ardintilt Intervento E scoperta Atto vandalico Alla centralina Poi si è andata avanti Ci sono altre notizie Tipo la ruota panoramica Che la stanno smontando Perché il saluto alla città Ed il ritorno Dice il titolo Al via le operazioni di smontaggio Shock alla festa Si sente male Muore mentre balla Ci sono tante altre notizie Di sport Di cultura Di economia Andate tutti a leggere La pagina A ternitoday.it Bene Vale Con questo Ti lascio a te La parola Per partire Con il provinciale Del Corriere Si Allora Vediamo subito Ok Alla variante Per Ternanello Come aveva annunciato Poco fa Paolo Dal portale online Di Terni Today Via Libera Dal consiglio comunale Il progetto del centro sportivo A Villa Palma 19 voti favorevoli E 9 astenuti Questa sicuramente Per Terni Ma anche Per il padrone Stefano Bandecchi Perché comunque Ternanello è stata voluta Proprio dalla società Ternanacalcio È una bellissima notizia A pagina 27 C'è proprio un intervento Dove Ci sono Dichiarazioni Dell'assessore Per l'urbanistica Federico Cini Che dice Siamo partiti a marzo Con l'adozione Della variante Urbanistica E ora siamo Nella fase conclusiva Quella di attuazione Questa sicuramente È una ottima notizia Consegna a domicilio Istituita un altro pass Modificato Il regolamento Per accedere Alla ZTL Parla proprio L'assessore Prevediamo Una sessantina Di nuovi permessi Per le auto Quindi il delivery Dopo l'emergenza Legata al covid L'attività Si è Radificata In città E quindi Insomma Ci saranno Nuove Autorizzazioni Questa anche È una bella notizia Per quanto riguarda Le informazioni Sulla procedura Di lascio Del permesso Saranno disponibili Sul sito Del gestore Del servizio Che è Terni Reti O telefonicamente Al numero 0744 47 97 11 Procura Inaugurata L'aula Per l'ascolto Scusate Dei minori Iniziativa Si è resa Possibile Grazie all'impegno Del Soroptimist Club Liguori Questo locale Protetto Sarà a disposizione Di tutta la regione Quindi Una stanza A misura Di bambino Giocattoli E mobili colorati Per ridurre L'impatto emotivo Per chi volesse Affrontire Pagina 28 Del Corriere dell'Umbria Nella stessa pagina C'è sempre Il solito allarme Per quanto riguarda L'ospedale di Terni Che non è Più adeguato Rispetto alle esigenze E agli obiettivi Previsti Dal piano sanitario regionale L'allarme Proprio che lanciano I segretari Di FNP Cisle Con faloni Chiede proprio risposte Certe all'assessore Coletti Sul diritto alla salute E perché ci sono Comunque nella sanità Troppi ritardi Sulle liste di attesa Speriamo insomma Che ci possa essere Un riscontro Ma soprattutto Degli interventi Concreti Da parte della regione Su questo grande problema Perché comunque La sanità È una delle prime cose Che bisognerebbe risolvere L'aviosuperficie Si rinnova Autoannuleggio Per chi arriva a Maratta E via Le barriere architettoniche Per i disabili Finalmente Come dicevamo Qualche giorno fa C'era una denuncia Di un disabile Che non riusciva Ad accedere All'aviosuperficie Ora c'è stato L'ok Quindi registrati 8000 movimenti Annui Tra decolli Atterraggi Nella pista Gestita dalla società Di Dernireti E quindi c'è bisogno Diciamo Di rinnovarla È stata accolta Con la Santi In campo Accolta con interesse La proposta avanzata Dal presidente Dell'Ummil E quindi C'è un nuovo volto Anche per l'aviosuperficie Molto bene Con questo Paolo Io do l'ultima notizia Che vado Nell'Orvietano Torna visibile Il tesoro del Duomo Il capolavoro Dell'oriferia medievale Restituito Alla fruizione Del pubblico All'interno Di una nuova vetrina Completato quindi Il restauro Del reliquiario Del corporale E dopo due anni Riaprono le porte Della libreria Alberi Molto bene Questa è l'ultima notizia Dal Corriere dell'Umbria Ora lascio la parola Per integrare Con le ultime notizie Del messaggero Sì Il messaggero apre Multe Cartelle 2017 Sbagliate Centinaia di utenti Nel pallone Nelle missive Informazioni errate Per i numeri E gli uffici Da contattare Infila per ore Inutilmente Per scoprire Che riferimenti Da chiamare Sono altri Sì in effetti Questa è l'odissia Di tante persone Che si sono viste Arrivare delle multe Facenti capo Al 2017 In cui i riferimenti Degli uffici Erano errati Persone che hanno fatto All'agenzia delle entrate All'ufficio Contravenzioni Del comune Di Terni Praticamente File Per parecchio tempo Finché Magari è passato Come è successo Da un utente Un vigile Che ha spiegato Che i numeri Che erano lì Non erano più Quelli corretti Per Da contattare Di qui La precisazione Dell'assessore Scarcia Che dice Effettivamente Ci sono Dei riferimenti Sbagliati Per le cartelle Del 2017 In parte abbiamo Provveduto Come è il caso Degli uffici Di Terni Reti Dove sono stati Affissi Dei cartelli All'esterno Non provvederemo A spedire altre lettere Per spiegare L'errore Ma comunicheremo Le corrette modalità Da seguire Ricordo Quell'occasione E prosegue L'assessore Scarcia Scarcia Scusate Che simili procedure Possono essere fatte Anche per via telematica Faccio presente Che in ogni caso Copia del verbale Della notifica Possono essere Direttamente acquisiti Accedendo autonomamente All'indirizzo HTTPS Due punti Slash Slash Terni Punto comune Trattino alto Online Punto it Web Slash web Slash polizia locale Inserendo i dati Richiesti Comunque per ricordarvi Questo indirizzo Che mi rendo conto Non potete Diciamo Scrivervi Potete andare A pagina 43 Del messaggero Movida Scontro tra residenti E locali Su orari E musica L'assessore Giovanni Scarcia Con le multe Non c'è nessun accanimento Rispetto Delle regole Per il vivere comune Sì Diciamo Questo settore Che sta cercando Di ripartire Anzi Che sta cercando Di spingere Sull'acceleratore Per recuperare I guadagni persi Nei due anni Di lockdown Si sta Diciamo Lamentando Si sta ribellando Perché Dice che Forse è il caso Allungare gli orari Perché già A mezzanotte Un quarto Se si trovano Musica Un po' più alta O un tavolino Che sta al di fuori Magari di pochi centimetri Dall'occupazione Del suolo pubblico Arrivano delle multe Salatissime A questo risponde L'assessore Giovanni Scarcia Scusate Giovanna Scarcia Dove praticamente Fa presente Che Non c'è accanimento Quindi anche se I vigili Sembrerebbero Non comprendere La situazione Invece no Nel senso Bisogna Mediare Tra residenti E regole E' chiaro Che quando i vigili Arrivano Non è detto Che controllino Solo La musica Gli orari Ma controllano Ad esempio La vendita Degli alcolici Ai minori Fanno un tipo Di attività Ispettiva Che probabilmente Ha una sua ragione D'essere Per tanti motivi Che spesso Stiamo a raccontare Dai nostri microfoni L'abbiamo detto Abbiamo letto Su Terni Today Malore in Valera Muore a 79 anni E a Narni L'ultimo ballo E' intitolato così Malore in pista Morto un uomo Di 79 anni Un dramma Consumato In pochi attimi E' finita così Per un ternano Che ieri sera Nella parrocchia Di Sant'Antonio A Narniscalo Stava partecipando Ai festeggiamenti In onore Del santo omonimo Erano passate Da poco le 23 Quando l'anziano Arrivato da Terni Per passare una serata In compagnia di amici Durante un giro Di danza Si è improvvisamente Accasciato Non sono valsi I soccorsi Che purtroppo Hanno potuto constatare Solo la morte Del 79 anni Cambiamo argomento C'è un'intervista Che il messaggero Pubblica Alla A Elena Proietti Assessore Allo sport Turismo E dalle pari Opportunità Elena Proietti Da arbitra Ad assessora Mi vedono bionda E pensano Sia stupida Mia madre Un punto di riferimento Ho aggiunto il suo cognome Al mio Intervista molto interessante Simpatica Anche per certi versi Da leggere A pagina 45 Del messaggero Orvieto Una bella notizia Tre spot Contro la droga Tre spot Per rendere i giovani Consapevoli Dei rischi derivanti Dal consumo Di sostanze Tre video chiari E incisivi Che raggiungono L'obiettivo Di far conoscere Più da vicino Ai ragazzi Il fenomeno Che è sempre Più va arginato Con tutti gli strumenti A disposizione Compresi nuovi mezzi Comunicativi A disposizione Fatti da giovani Per i giovani A realizzarli Sono gli strumenti Della scuola secondaria Di primo grado Luca Signorelli E Ippolito Scanza Che si sono messi in gioco Creando un team collaborativo Che ha condiviso Tutte le fasi Del progetto Ottima iniziativa Che sicuramente Colgerà Speriamo Nel segno Perché i ragazzi Quando lavorano Su certi argomenti Quindi li affrontano Da un altro punto Di vista Non sono insensibili A quello Che poi alla fine Scoprono Bene Con questo Terminiamo La nostra rassegna stampa Valentina Diamo appuntamento a Domani Auguriamo anche Una buona giornata A tutti i nostri Dall'ascoltatori Stanco di perdere Tempo e denaro Per le bollette Di energia e gas Le energie Senza fatica Sono qui Cempi Un partner affidabile E tutta l'assistenza Di comfort I genato Per la tua casa Per la tua azienda Contattaci subito E inizia a risparmiare Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino All'indirizzo Madeenergia Chiocciola Confartigianato Terni Punto it O al numero telefonico 0744613311 A presto A presto Anima A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.